La donazione è una scelta che cambia la vita, è il tema che è stato dibattuto nell'aula magna del Liceo delle Scienze Umane Falcone Borsellino di Gela su iniziativa delle associazioni Dono, Fidas Adas, Admo e Adoces. Si è parlato di donazione di sangue, midollo osseo e cellule staminali da cordone ombelicale. L'idea che noi abbiamo voluto dare a questi ragazzi, sono giovanissimi, quest'oggi non sono ancora maggiorenni, gran parte di loro, è quello proprio di cercare di capire cosa vuol dire entrare a far parte nella società civile, cosa vuol dire diventare adulti. Diventare adulti non significa soltanto prendersi la patente per guidare la macchina, ma diventare adulti significa anche prendersi delle responsabilità. Un gesto di grande responsabilità è proprio quello della donazione del sangue. E quindi noi invitiamo tutti quanti, chiaramente in questo caso l'abbiamo fatto con i ragazzi giovani, ma noi lo invitiamo tutta la cittadinanza, coloro che ancora non sono accostati al gesto della donazione, di avvicinarsi al mondo della donazione del sangue e a capire, a toccare con mano cosa vuol dire il benessere che pervade ogni persona nel momento in cui si va a donare sangue. Il dono deve essere cultura, il dono deve essere un momento importante della vita di ognuno di noi, essere altruisti e mettersi a disposizione degli altri. E oggi il messaggio che abbiamo voluto far passare è questo, siamo nelle condizioni di compiere il miracolo della vita, cioè ognuno di noi, soprattutto per quello che mi riguarda il midollo osseo, ha la possibilità, perché magari è l'unico donatore compatibile al mondo con un malato in attesa di trapianto, l'unica possibilità che diamo a questo paziente è di riappropriarsi della propria vita. Lo possiamo fare solamente con un semplice prelievo di sangue, essere inseriti in un registro mondiale dei donatori di midollo osseo e aspettare che il bondio ci chiami, perché è un gesto straordinario. Nel corso dell'incontro lo sono intervenuti tra gli altri il dirigente scolastico Giochino Pelitteri e Rita Salvo, presidente FIDAPA. Abbiamo partecipato insieme ai ragazzi del classico alla conferenza che ci ha trasmesso moltissime cose che ci possono aiutare, aiutando gli altri, facendo la donazione del sangue e del midollo osseo. Quindi un invito che puoi rivolgere ai tuoi compagni di scuola, ma anche agli altri istituti, a donare il sangue e donare il midollo osseo. Sì, giustamente per aiutare gli altri. Aiutare gli altri è una cosa bellissima. Se noi possiamo farlo con un minimo, che sarebbe la donazione, perché no? Sì, giustamente per aiutare gli altri.